Se per caso stai avendo dei problemi riguardo alla connessione wifi che non si vede, proprio l'icona della connessione wifi che non si vede sul desktop, in questo caso è possibile che ogni volta all'avvio c'è qualcosa che disabilita questo problema oppure semplicemente vanno aggiornati i driver del dispositivo. Visto che non abbiamo wifi per scaricare e installare questo dispositivo per aggiornare i driver della scheda di rete, possiamo semplicemente andare un attimo sul pannello di controllo e vedere qual è il problema. Vai sul pannello di controllo, andiamo direttamente su rete internet, visualizza l'attività del stato della rete, modifica impostazioni scheda. Se qua sopra è disabilitata la rete wifi o il cavo ethernet, tasto destro sopra abilità oppure semplicemente esegui una diagnosi. Non è possibile raggiungere i server o che sei connesso a internet. Esci dal test di rete. Se riscontri sempre questi problemi, tasto destro sopra esegui diagnosi. Oppure semplicemente tasto destro qua sopra diagnostica problemi di rete. Ti porterà su questa pagina del supporto. Ovviamente ti dirà di riavviare il tuo modem, riavvia la scheda di rete wifi, riavvia il computer. E qua dice ancora serve ancora aiuto e fai una scansione del codice QR che ti porterà sulla pagina del supporto tecnico Microsoft. Ora, visto che adesso abbiamo la rete wifi, in descrizione ti ho lasciato così un programma che si chiama PC Helpsoft Driver Updater. Ed eccolo qua. Lo scarichiamo e lo installiamo. Se riscontri ancora problemi di rete, puoi semplicemente scaricarlo su un telefono e poi attraverso cavo USB lo porti sul computer. Quindi colleghi così il telefono al computer tramite voi il cavo USB e trascini il pacchetto che hai scaricato sul desktop. Poi lo installiamo. Poi andiamo a fare avvia una scansione per vedere quali sono i problemi. Qui ti dirà trovati zero driver obsoleti su tantissimi dispositivi che hai installato sul tuo computer. Pochi giorni fa ho aggiornato i driver del mio cavo LAN e altri problemi driver audio e mi ha aiutato moltissimo questo programma PC Appsoft. Ora ho trovato un driver. Aggiornamento manuale, tip link, wireless e MPC Express che sarebbe la connessione wifi. Vista e correzione manuale e facciamo aggiornare. La connessione internet sarà temporaneamente interrotta, facciamo sì. Il driver è aggiornato correttamente e facciamo chiudi. Anolta installato riavvia il tuo sistema. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.